Benvenuto a chi si affaccia per la prima volta a un metà. Ho la parola proprio in questo momento, in quanto faccio parte del comitato di accoglienza composto da Bianca di Scardi, Vincenzo Reda e io stesso, Franco Vitti. Prima di iniziare la riunione, infatti, è il nostro compito informarvi brevemente che chi partecipa deve segnalare la propria presenza, oltre ad aver dato la propria lesione sulla piattaforma telematica, e che facoltativamente può versare un contributo economico di solito in un euro per finanziare le iniziative della comunità in cui voi siete entrati ora a far parte. La questo, è più bello. La questo, 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 la questo è più bella di cosa che prendere soldi non gli versiamo. Quindi a tutti noi potrei dire che su di noi, Bianca, Vincenzo e me, potrete contare per avere spiegazioni di ogni tipo, sia qui nelle riunioni fisiche, sia sulla piattaforma telematica, fin dove arrivano i nostri limiti di conoscenza e di esperienza, ovviamente ci potremo avvalere di persone ancora più convenienti di noi. Sarà nostro piacere avviarti, avviarti a capire il funzionamento di tutto quanto, pertanto prima di andar via, se vorrai, se vorrete, vi daremo volentieri i nostri numeri telefonici, i nostri indizi mail, per essere contattati quando vorrete. Una volta che un moderatore vi avrà aperta l'assemblea, ognuno dei prestati potrà segnalare l'intenzione di intervenire sulla discussione e aspetterà il proprio turno. Normalmente viene conceduto.